Allora adesso vi spiegherò per quale motivo ho fatto le due valigie ieri dato che ve lo dovevo spiegare ma poi sono andata a dormire perché questa mattina mi sarei dovuta svegliare presto. Allora la prima valigia l'ho fatta per venire qua a Milano dato che questa settimana ci sarà la Fashion Week infatti sono davvero molto curiosa ma chiaramente vi porterò con me. Poi la seconda valigia l'ho fatta perché sabato io partirò con la mia famiglia andrò dieci giorni in vacanza e dato che questa settimana non ci sarei stata ho dovuto fare la valigia ieri. Andremo in un posto molto caldo e non vedo l'ora perché così ho la possibilità di passare un po' di tempo con la mia famiglia.